Per le 11 persone, 4 donne e 7 uomini con un'età media di 36 anni, alle quali ieri nel lab di Empoli per errore è stata somministrata la prima dose di AstraZeneca invece di Moderna, la ASL Toscana Centro ha deciso, a scopo cautelativo, di attivare un protocollo di sorveglianza che prevede la loro presa in carico da parte del Day Service di area medica dell'ospedale empolese San Giuseppe. Il protocollo di sorveglianza, spiega la ASL, sarà condiviso con gli interessati una volta acquisito il loro consenso. 30 giorni di sorveglianza sono il tempo che rappresenta il periodo a maggior rischio di eventuali complicanze. Gli esami da fare in tempi cadenzati permetteranno l'attivazione di uno screening finalizzato a prevenire lo sviluppo di eventuali complicanze. Nel caso poi dovessero manifestarsi eventuali eventi acuti, le 11 persone potranno fare riferimento in qualsiasi momento all'ospedale tramite accesso diretto. Intanto, dopo l'errore di ieri, è in corso un'analisi interna a cura della struttura del rischio clinico aziendale per capire come possa essersi verificato. Secondo l'azienda, sembra esserci stato un errore materiale nella fase di inoculazione della prima dose di vaccino. Agli interessati sarà ora proposto di completare il ciclo vaccinale con modalità eterologa, ovvero con la somministrazione della seconda dose di vaccino mRNA oppure di fare anche la seconda dose con AstraZeneca. Grazie.